Dobbiamo fare una cosa, perché io non li ho ancora riscattati, ho messo la foto ma non li avevo ancora presi. Andiamo a riscattare, raga! Puff, puff! Eeeh, la la! 486 Memorial Dragon Stone. Raga! Prima cosa da fa, prima cosa da fare, prima cosa da fare con queste bellissime stone. Andiamo al Baba Shop! Andiamo al Baba Shop, ok? Calma! Fatemi trovare le Memorial, se le trovo. Dove sono le Memorial? Dove sono le Memorial? Dov'è lo scioppino delle Memorial? Allora, raga! Prima di tutto, e questa è una cosa che ho già detto a tutti e lo sto dicendo proprio a tutti, non comprate PG. 21 ticket, ok? Sono 3 multi da 7 ticket in più da fare su Vegito. Ora, io non voglio dire niente, sono 105 Memorial Dragon Stone, ma fidatevi di me, ok? Fidatevi di me. È meglio fare 3 multi per Vegito o 3 multi, per dire, su Radish. Vegito. Quindi comprateli. Va bene, 105 Memorial Dragon Stone, subito andate e ora arriva il bello. 381 ticket da andare a pullare stasera, solamente per un motivo, Vegetatech. Dopo aver pullato i ticket, se è andata male... È qui. Quindi, dopo tutti i ticket Memorial Dragon Stone, se non abbiamo trovato Vegeta, 200 stone vanno qua sopra. Ok? 200 stone andranno qua sopra. Detto questo, raga, buona serata, buona celebrazione a tutti, perché ormai è partita. Raga, iniziamo a pullare con i ticket. Allora, buona fortuna a me, buona fortuna se volete pullare insieme a me nel mentre. Buona fortuna a tutti. Allora, 50... Vegito Animation, attenzione, Vegito Animation. Yoshaa! Eccolo qua, il primo Vegito blu. Nice. Ciao, Devo! Ciao, Devo! Partiamo bene, prima multi, primo PG, prima LR. Gokui! Oddio! Dopo dobbiamo pulire il box, quello sarà il vero casino. Giuro che se esce un Tarles LR, rido. Io voglio solo Raggetta Tech. Guarda lo Goku, mi sta in mano. Eh, 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 parla lui. Ciao, Tanina. Il mio nabbone preferito, sai. Lo sapevi. Qua c'è della connessione, cos'è successo? Il meme finisce. No, il meme non finisce. È forgotten. Poteva essere Raggetta Tech, era Tech anche questo. Poteva essere, ragazzi. La chance c'è. Oggi ci divertiamo pullando, fondamentalmente. Ve lo dico già, vi avviso subito. Oggi ci divertiamo un pochino pullando. Dopo abbiamo Rosé da affrontare, quindi lo andiamo ad affrontare. Cinque tra i nuove. Quindi, ja, preparateli. Mi devi trovare Tarles LR, è obbligo. Ma io non lo voglio, quindi, cioè, evitiamo. Grazie. Lo prendo con la stone. Ah, vabbè, ma ti possiamo smerdare per sempre. L'hai comprato con la stone. Non l'hai pullato, Alex. Cioè, tranquillamente, ti possiamo smerdare comunque. Non l'hai pullato. L'hai comprato con la stone. C18STR. Vabbè, diciamo che questa multi da 50 è un po', vabbè, un po' me. Un po' me, per ora. Anche perché mi gatta STR, è abbastanza inutile, quindi vabbè. Vabbè, in via dell'Ezza, dai. In via dell'Ezza, quindi. Diciamo che, vabbè, dai, ci può stare. Ogni tech andiamo su Ragit Attack, vabbè. Ma quindi almeno 100 Memorial le uso per questi banner. Quelle che ti rimangono dopo che hai comprato... Oh, 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 attenzione. Attenzione. Radicchio. Gli androidi. Let's go. E si gode. E si gode. Questa è la goduria. Let's fucking go. Questo si fa, regà. Questo si fa. Memorial Dragonstone. Primo hit trovato che è uno dei pochi che mi serviva. Gli androidi. Let's go. Felice. Perfetta questa... Questa prima multi, GG. Questa prima multi in realtà si è trasformata in GG. Ma sapete cosa vi dico? Facciamo una multi da 50 anche qua. Dai, facciamo un'altra multi da 50. Andiamo. Un'altra multi da 50 ci sta. Chi lo sa se Gohan è nel banner di Vegito? Si sa il colore di Vegito? No. Non si sa. Dovete aspettare il data download o... O domenica mattina alle 4. Super Saiyan 3, Super Saiyan God? Niente. Sappiamo che c'è l'SSR. Non è garantito l'SSR, quindi... Si spera. Quando si parla Radish a full. Ma spero di non trovarla full io sinceramente. Da qua... Pur quanto mi faccia schifo Cell... È un richiamo. È un richiamo, regà, questo. È un richiamo. È un richiamo. È un richiamo. È il richiamo di Vegito, regà. È la celebrazione sua. Sta tornando. Comunque stavo dicendo... Non me lo ricordo neanche più, scusate. Reggiatore! Ah, sì, lo so. È vero, te l'ho regalato a te. Ho messo random. Vegito per averlo vinto. È un sacco di me. Eh, sì, vabbè, Vegito fisico. Ah, sì, è vero. Era un richiamo. Vegito è un richiamo. È un richiamo al nuovo Vegito, ragazzi. Poco da fare. È un richiamo al nuovo... Va bene! Va bene, oh, raga! Molti da 50. Cosa volevi trovare, Vegito? È un richiamo per le special. Sì, sì. Omega STR, wow. E questa, tecnicamente, è una multi migliore di quella di prima. Tecnicamente. Ehi, Black Int! Black Int, attenzione. Questo va in Ezza parte 2. Ezza parte 2, eh. Chiamato, chiamato. Ezza parte 2, preparatevi. Questa multi sta andando molto meglio come lato Dokkan Fest. Solo Dokkan Fest stanno uscendo. Quella di prima era... Vabbè. God, Q e... Però da questa è giusto dire che non ci ha ancora trovato l'ability di nessuno. Cioè, è tutto... Baba Shop, fondamentalmente. È brutto dirlo, però. E los LR Inter riceverà un Ezza? Probabile, probabile, probabile. Molto probabile. Eh... Non lo so ancora, adesso. Perché forse c'è un data download. Adesso vediamo, comunque. Cioè... Massimo, lo dico, comunque. Tranquillo. Ve lo dico la sera. Tanto domani non faccio live. Ok? Non faccio maratona. Ve lo dico. Non faccio maratona. Ok, iniziamo a fare le multi da 7. Iniziamo a fare le multi da 7. Stavo dicendo, non faccio maratona, ma domani sera ve lo faccio sapere. Fra Discord, Twitter, YouTube. Lo sapete, tranquilli. Dai, proviamo a prendere un po' l'ability dei cosi, dei Super Saiyan Blue. Che sono ancora là, inutili da sempre. E vediamo se troviamo il raggetto a te. Resetta alle 21 o alle 20. Appena fatta la multi da 50, i defecco trovato. Kill bufisico e sale STR. F. Quello è un po' F, sinceramente. Quello è un po' F. È giusto dirlo. È un po' F. Dovrei esserci, ma non credo riuscivano a svegliare per le tre, ma tranquilli. La Jetta Tech è proprio bello. Esce. Non rompere le balle. Ho ancora tanti ticket da pullare. E 200 stone pronte se non lo trovo. Ehi, ehi, ehi. Satansubu. Satansubu. Vediamo un pochino che cos'è Satansubu. Attenzione. Possibile LR. Attenzione un attimo. Attenzione un attimo. No? Non si sa. Boh, vedremo. Buon Tech. Buon Dokkan Fest da trovare, ovviamente. Per me è Baba Point. Però, vabbè. Buono, effettivamente. Questo ci sta... Questo banner ci sta dando molta roba. Io volevo trovare Gon Tech insieme a Gon STR. Wink. Super Wink. Sì, sì. Assolutamente, raga. Ma Omega STR Reza. Inutile. Vegito? Niente Vegito. Questo Gon Tech, quando avrà Leza, sarà veramente forte. Poi vedi che gli danno solamente evasione. E basta. Non gli aumentano neanche le stats in passiva. E tutti... E io rido. Io rido. Ti trovo in reagito ora che ho scommesso tutti i miei punti per parti... Mi farei incazzare. Lol. Lol. Allora, queste Memorial vanno, ragazzi. Sono 270. Io le spendo, cioè nel senso... Wow, virus. Molto utile virus in queste multi, sapete. I banner escono domenica, sì. I banner escono domenica dopo la live del JAP. Grazie mille, devo per averla fissata. Leggete quel commento anche perché non è che non vi voglio rispondere, ma... Già, solo adesso dall'inizio della live. La live iniziata 20 minuti fa, vi ho letto già 30.000 volte chiederlo. Quindi leggete lì, io non risponderò a quella roba. È scritto lì sopra in grande. Leggete. A Gontech attualmente è stato un add-in kit. No, gli serve il danno perché sennò è inutile. È sinceramente inutile. È sinceramente inutile. King of None. Buonasera, ne ho trovato su YouTube... Lo so, lo conosco, lo conosco. Lo conosco. Lo conosco, lo conosco. Vai a guardare da lui il video di Frost Tech. Puoi guardare da lui il video di Frost Tech. Mi ha fatto una parte solo per me. Solo perché stavo ridendo come uno scemo a Frost Tech. Anzi, dopo facciamo una reaction che ho da farvi vedere una roba. Ho da farvi vedere una roba. Ho da farvi vedere una roba, quindi preparatevi che dopo facciamo una reaction a una cosa. Banner escono dove... A farvi, ti prego. Per il danno... No, il busto alle stats per il danno è basta. Non servirebbe. Gli serve proprio molta più roba. Trunks da solo, vabbè. Antonicchio, grazie mille. Sì, i Ticket Rainbow. Raga, avete fatto l'anniversario neanche mezzo mese fa? La stessa roba. La stessa identica roba, eh. Sono i Ticket Rainbow identici. Identici, eh. Identici. Tranquilli. Sono la stessa cosa. Stessa identica roba. Che è il fisico, vabbè. Lo ripeto, ma il Trunks del nuovo evento è un artwork nuovo. Il Trunks del nuovo evento? No, no, no. No, non è un artwork nuovo. È Trunks... È Trunks Evo. È Trunks Evo È Trunks Evo Io vorrei almeno trovare una coppia dei blu Giusto perché così me la levo Cioè sono inutili però almeno Boh li ho Vorrei vedere Raggetta Tec ovviamente Cioè è la mia chance migliore raga Non devo pullare stone Calma Sacco di merda Esplosiva Schifoso Oh siamo già a 3 LR comunque Trolla lol Guarda se esce Tarles rido Se esce Tarles rido A questo punto manca solo lui Per finire i trolloni Continuiamo Un sacco di merda per 3 Succede Rad The Gamer Buonasera 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 Tapio Minotia Sono riuscito a spendere 10.000 stone da free to play È buono dai Buono 10.000 stone da free to play Cos'hai fatto Non hai pullato per 6 mesi Hai pullato tutto Parlavamo di Tapio Minotia No? Ma va Chi è che ha parlato di Tapio Minotia Che non ho letto il nome prima? Fatti vedere Fatti vedere in chat Per favore Fatti vedere in chat Un attimino 2 LR Godi 2 Ah sei stato serio Sei Vai a Fai un culo Tenta Più Minotia Finalmente Goku Black Physico Grazie Godstone Vabbè Porca Eva Vabbè Ma con la roba lì Ci sta anche Danno direttamente il tour Però Vabbè Totalmente inutile per me Compro i Kai Io ragazzi Ve lo dico Io ci compro il Kai È l'unica cosa Che vale la pena prendere per me Papà Eyes are red Non rompere Grazie Ti voglio bene Non ho capito Ma il gioco Da una Memorial Stone Ogni quante stone Ogni 50 stone Che tu spendi Da agosto Il giorno che danno Le Memorial Ha Credo che sia una settimana Prima delle Memorial Ti conto Ogni 50 stone Che spendi In qualsiasi modo Che Aumenti box Refili la stamina Blah 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 Ti Ti dà una Memorial Dragonstone Ho preso 181 Memorial Sì 181 E 170 Credo che siano Proprio Quelli che un F2P Può fare al massimo Credo che siano Quelle che si possono fare Proprio al massimo Comunque In generale La cosa che mi piace È che vi danno I Rainbow Ticket Quella è una cosa Che sinceramente Mi piace Perché tanto Comprare un PG Per 150 Dragonstone Memorial Non ne vale mai La pena Dovete aver speso 7500 stone Per quel PG Non è mai Valsa la pena Poi comunque Come state vedendo Alla fine dei conti Di PG Ne sto trovando È vero che Ho molti più ticket Di Che è free to play Però Io continuerei Ancora Qua fino a 150 ticket Poi andiamo Dall'alto Tanto ripeto Pullo per poca roba In generale Da tutte e due Potevano farli costare Un po' meno Eh Però sono tre Multi da Vegito Sono tre Multi da Vegito Eh Devi vederla Anche in quel modo Capiamoci Vegito Vegitozzo Oh my god Number one L'ha detto L'ha detto L'ha detto Eccolo qua Attenzione Tranks Inferno È quello nuovo Aspetta a buildarlo Attenzione Attenzione Calma Vediamo un pochino Che cos'è questo Vegito Ah F Vabbè F F F F F F C'è scritto Maratona Oh Cos'era quell'animazione Non ho visto Ah no niente C'è scritto Maratona Da qualche parte No E allora vuol dire Che finisce Il non audio Normale Un bel super saian god Giusto per darmi più chance Di trovare la jet attack Ho parlato Ho parlato Ho parlato Ho parlato Ho parlato Vabbè Veramente che Vegito Che Vegito e Zamasu Non siano sette volte Più forti di Goku GG 9610 Grazie mille per la sub Con Twitch Prime Grazie mille Dai parliamoci chiaramente Ma l'hai visto Rosè che cazzo è Ma l'hai visto Rosè che cazzo è Dai ma Rosè Heita di più Di più di Cell Max Credi veramente Credi veramente Che Vegito Vegito e Zamasu Siano Più deboli Di Goku 4 Goku 4 diventerà Che è inutile Ve lo dico già Mi dispiace Ve lo dico già È molto più forte Di Cell Max Quella roba È veramente osceno Quanto è forte Capiamoci Preparatevi A un power clip Della madonna Con Vegito Vedendo comunque La red zone Anche di Cell Come sono uscite Sono cattive Fin dal turno 1 Così forti Goku 4 Sarà inutile Goku 4 Sarà inutile Mi dispiace dirlo Va bene Ultima Ultima Perché vorrei trovare Quel Goku blu Goku Goku Vegeta blu Trunks e Mai Trunks e Mai Trunks e Mai Attenzione Pure Long Vabbè Ok Attenzione Abbastanza inutile Vabbè FC 13 FC 13 FC 13 Il camionista Incazzato nero Va bene Iniziamo ad andare Di qua Va Allora Qua è più rischio Di trovare solo Roba full ability Quindi F Sì Ora provo a leggere Un attimino Però Calma Mi vergogno Dirlo Io non possiedo Transevo Tec F Eh F Vabbè Potrebbero fare Un Ezza del cazzo Lì Vabbè Dai Wow Kidball GL Uno dei miei primi Tour del giorno Vegetta Candy Che multi Wow Se da sto banner Devono esserci Rare Summon A quel punto Può essere Vegetta Tech Vero Dokken Grazie Eh vabbè Animazione inutile Eh da qua Possiamo trovare Il god Di tutti i god Calma Non è Non è DF garantito Calma Un Super Saiyan 3 Vuol dire SSR Vegetta Tech Attenzione Attenzione Borgos Vabbè Quanta larra hai trovato? Tre o quattro? Tre? Tre 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 credo per ora Tutte inutili Tutte che devo dare al baba A breve Perché mi devo liberare il box Eh io ve lo dico Devo liberarmi il box In realtà è quasi tutta roba da baba Siamo tornati nel 2018 Perché? Per Borgos E per i pg Di prima Qua il vero problema È che io mi sto riempiendo il box Voi dovete vedermi dopo Vendere tutto Trunks e mai Trunks e mai Trunks e mai È facile trovare Sto cazzo di Reggetta Tech Reggetta Tech GG Solo lui Vediamo un pochino Che cos'è questo Trunks e mai Golden Intef C'è Golden Fisico È meglio trovare lui Ma forse è nell'altro banner E che palla Ho detto Tech Però non Goten Tech Che cacchio Che cacchio Dockham Ma dai Ma come ti permetti Ma come ti permetti Dockham Ah è nell'altro Ok 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 Non è che Oh Krillin da solo Attenzione Rare summon 3 rare summon Krillin da solo 3 rare summon Ti prego Ti scongiuro 3 rare summon 3 rare summon Krillin Krillin Vieni god 3 rare summon Ti prego Krillin Dai Krillin Ti prego Ti scongiuro Krillin Ti prego No è Ok F Ma basta Sto Bojack Ma che cazzo vuole Ma sto rompicoglioni Ma che Che palle Che due coglioni 3 kbint Vai Eh beh Non lo so Vabbè Bojack LR Che palle Veramente Se vedo Se vedo Un altro Bojack Mi incazzo Se vedo Un altro Bojack Mi incazzo Ve lo giuro Arrivo che Sbotto Se vedo Un altro Bojack Non credo Non credo di aver fatto Nulla di male Per ricevere solo Bojack Oggi Guardate Vado a farla Multi 50 Mi becco Bojack Anche lì Porca Eva Oh Vegeta Oh 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 No Manca Bojack 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 Non mi ricordo Neanche se ha full Sinceramente Questa qua la schippiamo L'altro non c'è niente Banner Quando è che escono Domenica Predicto Sulla parte 2 Trunks E Rosè Credete ancora La teoria Di DBZ No ma sono belli Tutti sti Whis Sti Beerus E' possibile E' possibile Domenica Appena inizio a pullare Prima multi Vegito Con Whis Animation Io sto andando avanti Però è dura qua Continuare Senza vedere Quel cazzo di Vegito Eeeh Vegito Scusate Raggetta Senza Raggetta Si sta male Senza Raggetta Si sta male Senza Raggetta Sto male Sto male io Raga Oh Frost Dio buono E' già il terzo Che mi esce così Poteva essere Raggetta Vedete che ci abbiamo Hittato vicini Siamo vicini Raggetta Ragazzi Il PT Sta arrivando Il PT Sta arrivando Ma quel Frost A me va bene Mi fa sempre ridere Quindi Mi fa sempre ridere Quel Frost Base Metteranno davvero Tre Carnival Nella seconda parte Secondo me No Secondo me Mancheranno Quelle dell'anno scorso Io ho paura Ho molta paura Tre Carnival Nel banner Sinceramente Non ce le vedo Sono sincero Non ce le vedo A volte da solo Vabbè Quali biglietti Sono I rainbow ticket Ragazzi Sono gli stessi Ticket Dell'anniversario Delle celebrazioni Come il Tanavata Vi fanno fare Delle extra Multi Gratuite Sui banner Che vi interessano Vegito Spullate su Zamasu Su Zamasu Trunks e Mai Di nuovo Attenzione Vediamo un po' Vediamo un po' Sto Trunks e Mai Un bel god No comunque Zero god Aiuto Un attimo Ok Zero god animation Sì sì Dopo faccio la reaction Quel Trunks e Mai Perché cos'era LR finale LR Nappo e Vegeta Finalmente a full ability Prima LR Utile Let's go Actually let's go Let's go Felice 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 Molto felice Sinceramente Sono molto felice Per loro Full ability Finally Let's go Finalmente a full Yeah Bella lì Bella lì Oh Ste ticket Almeno Sta importando qualcosa Sta importando qualcosa Raga Mappa full Più c'erano loro Che vabbè L'ho trovato l'altro giorno Ma vabbè Full leva no No come l'altro Non li ho buildati Faccio bene E Frost Andiamo Ability 2 Frost Ovviamente Lui full leva Lui full leva Lui assolutamente Full leva Ok Dobbiamo tornare A pullare i ticket Dobbiamo tornare A pullare i ticket Andiamo un pochino Giusto un attimo Che li metto full leva Ecco qua Perfetto Raga Vedete La perfezione RPG de merda Fatto full leva Andiamo Continuiamo con le multi Le multi ticket Andiamo Omega S 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 Vabbè andiamo Qua dobbiamo pulire il box Raga Quella Raga Quella è una noia La facciamo dopo la multi Da Da 50 Se non trovo regeta Ci pullo, fine Se non trovo regeta ragazzi andiamo a pullare lì C'è la chance, fine Non ho neanche letto come funziona Se c'è un rare summon garantito O roba del genere Proprio scendere ci pulliamo Sono due chance La multi da 200 più i ticket quando esce No il data download non è stanotte Prima della live domani Sì, faccio la multi da 50 Se non trovo regeta tech con i ticket Vabbè, Legends, colpa loro, mica mia Una volta che trovi te lo spammerà all'infinito Probabile che è così Probabile che è così Ma non va bene, almeno lo porto a full Andiamo un po' Va bene, ok Le animazioni ormai non valgono più niente Come mai non ci sono già le info della carta questa volta Perché non ci sono mai le info della carta Ora Non ci sono mai LOL fire Continuiamo con le animazioni inutili Grazie Dammi un bel god animation Sono tre possibili Rare summon Oh e banner di Goku una merda Banner di Goku totalmente una merda Totalmente una merda Totalmente una merda Il banner di Goku Io mi sa che torno a pullare di là Abbiamo trovato più roba di là Più LR Più Dokkan Fest Più tutto Torno a pullare di là, regà Dopo questa, ve lo dico Niente Super Saiyan 3 Mi dai un god Vorrei un god animation Sono tre SSR Dokkan Torniamo di là eh Torniamo di là È andato molto meglio di là Mi dispiace sto banner Tanto Tanto pullo solo per il full ability Quindi è inutile Pullo di qua Mi pensi che Zamasu Sarà superiore A Goku Super Saiyan Ma a me che cacchio Me ne frega di Zamasu Ma può essere quel che vuole Ma chi se ne frega di Zamasu Ma proprio non me ne frega Niente di Zamasu Mi dispiace ma Braccio Melma Non mi interessa Non ho proprio interesse Braccio Melma È stato messo insieme Insieme a Vegito Cioè regà Ma secondo voi Io pullo anche una stonda a Zamasu Ma non me ne frega Un cazzo di Zamasu Guardo il banner Dico Ah Who cares Oh God animation Attenzione Vedete Il banner di sale Era meglio Calma Calma Non è ancora finita Non è ancora finita Ma basta te Ma non rompere il C13 C'è un altro SSR Calma Sti PG dell'anteguerra Sti PG dell'anteguerra No veramente Quel Vegeta è troll Quel Vegeta lo guardi Dici dai no Ma sei stronzo Oh Gotami Trunks 3SSR Dokkan Dokkan 3SSR 3SSR Dokkan Va bene Ok Vediamo chi è Un altro Gontech E' scriptato E' scriptato E' scriptato Regà E' scriptata E' scriptata Sta roba E' scriptata E' scriptata No 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 E' scriptata Regà E' scriptata Gli stessi PG Bojack Gohan C13 Scriptato Scriptato Sicuro Scriptata Secondo te Guantac Può ancora Workare Se l'hai buildato Eva e add Si Non è il tank Della vita ormai Cioè Chiariamoci Però se gli dai Eva e add Potrebbe funzionare Ultima multi Dopo singole Andiamo Poi devo però Un attimino pulire Prima di andare a farla Multi 50 F Andiamo un po' E' la multi? Non è la multi Ok Singoline Singoline time Raga Siamo arrivate alle singoline Quanto? 36 minuti Di recording Per fare tutti Sti 400 Ticket Fa anni Fa anni Fa anni Ma Gana Mawanda Ah Qualcuno spiega Perché i DFS Sono meglio Dei Carnival E' per i Raid No E' per Le lead Prima di tutto Il fatto che Comunque I Dokkan Fest Escono Sempre Quindi hai un coin E' effettivamente Utilizzabile Se pulli Se pulli sul prossimo Dokkan Fest Finiti KK Ti ci puoi comunque Comprare Vegito e Zamasu Appena ritornano Il coin Carnival Che cazzo ci fai? Se non pulli I KK Natale Tanavata E' anniversario Che cazzo ci fai Con un Con i Coin Carnival Non ci fai un cazzo Non servono a niente Io sta storia Vabbè L'ho detta oggi Nel video Effettivamente Però la storia Che è più hype No Sono tutte puttanate Per favore Tutte puttanate Fine I Carnival Non dovevano esistere Friend dall'inizio E vaffanculo Basta Nella multidat 200 Le ultime 4 carte Sono 3 Rer Summon Più 1 R garantita Perfetto C'è la chance Di Ratchet Attack Vedete Ultimi 2 ticket Dai Non mi far spendere 200 stone Dai Please Ratchet Attack Please Omega Number 1 Oh Ban Ban Sono ban Let's go E' vegeta Sempre Tu è vegeta No No Non si fa Che palle Dai Mi sento proprio preso per il culo Scusate Mi sento proprio preso per il culo Cioè potete capirlo No Com'è un po' la situa Cioè nel senso 200 stone 50 pg LR garantita la fine 3 Rer Summon Prima di quello finale Ho fatto Ho fatto Ho già fatto Non l'ho visto Non fa male Non fa male Non fa male Ragetta Tech Ragetta Tech Ragetta Tech Ragetta Tech Ragetta Tech Che animazione del merda E' base Proprio Base Base Crack Double No neanche Ok No PSTR Va bene Ok Prima del summon Potrebbe essere Ragetta Tech Poteva Poteva La ricerca Deve finire Oggi Ragazzi Deve finire Oggi Non me ne frega Niente Io oggi Devo trovare Ragetta Tech Io oggi Devo trovare Rage Vegeta Tech Ok Devo trovare Quello Non me ne frega Niente Giaco AGL Vabbè Sti stronzi Vabbè Ok Ciao Un LR extra By the way Va bene Andiamo un po' Calma Non riesco Non riesco a stare Fermo Non riesco a stare Fermo Ragazzi Ho proprio Sono in Sappiate che Sappiate che Se esce Mamma mia Non vedo l'ora Non vedo l'ora Non vedo l'ora Io voglio vedere su questo schermo Ragetta Tech Ragazzi Voglio vedere su questo schermo Ragetta Tech Voglio vedere su questo schermo Ragetta Tech Che è l'unica cosa Che mi importa Ma dai Un altro NAP STR Che due Coglioni Mi puoi dare Ragetta Tech Dai Enray Tappa Dovrei avere Più chance Di trovare Ragetta Tech Dovrei avere Anche più chance Di trovare Ragetta Tech No Dokkan Allora fammelo trovare Eh diciamo che il Tech L'hai trovato Sta zitto Iseved Dai per favore Dokkan Per favore Dokkan Stiamo avvicinando Nice Actually nice Full ability Nice Finiti Potremmo essere negli ultimi Eh Nice Ottone Nice Non voglio guardare Non voglio guardare Non voglio guardare Non voglio guardare Ok Ragetta Tech Ma dai Un altro Ottone Dai Dai Ma Vaffanculo Dokkan Ma poi Trunks È una course È una course Ve lo posso giurare È una course È una course Io non posso avere Ragetta Tech Sono 100% convinto È una course sul mio account È una course sul mio account Che dice che non posso avere Ragetta Tech È una course sul mio account Ne sono sicuro Ne sono sicuro Ragà Non ha senso logico Però intanto loro sono a full ability Solo che Vabbè Sono felice Per loro Però Devo trovare quel cazzo Di ragetta Tech Devo trovare un ragetta Tech Ragà Fina Uè Giaco a GL Merda A full ability Incredibile Ragà Io ci ho provato Io ci ho provato Ragà 200 stone 300 passati Che dopo Eh Siamo ancora qua Niente alla Jet Attack Ragà Finiscono qua Le prime pull 24300 stone Spese In un'ora Non sono propriamente 24300 stone Visto che sono le memorie Al Dragon Stone Però È quello È il valore effettivo Boom Sono scomparse Svanite Puff E non è che è andata bene Peccato Ragà Grazie mille per aver visto il video Lasciate un bel like Commentate Se siete nuovi sul canale Consideratevi iscrizione Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti